E' evidente che possiamo andare a prendere tutti i giorni. E' evidente che possiamo fare una serie di riferimenti e poi fare la... E' tantissimo! E' signora! Amore, amore, amore! Signora, io dov'è che vai? Buongiorno, buongiorno! Il compleanno di Romare è 40 anni! Ecco la torta! Ma sta scherzando! Ecco che cosa devo fetteggiare! Io e lui, la torta, la mimota! Ma lo vedi come sta a combinar su, Marina? Ma la torta è dalla... Sarà pure malata! Oh, lo facciamo a posto! E va bene, e io anche la torta può mangiare? No, tu non la puoi mangiare! Allora, qua ce la mangiamo noi, magari! Per festeggiare! Dai, tanti auguri! Dai, tanti auguri! Dai, tanti auguri! Allora! Va bene! Evviva! Allora, va bene! Suo marito non puoi mangiare, lo vedi? Noi lo stiamo alimentando via rettale! Via? Rettale! Allora... Signora, nel curetto! Allora, lo vedi questo tubo? Spiega, signora! Noi, per farlo mangiare mettiamo tutto qua dentro! Oh! E va dentro! E va bene! Ma fa male? No, non fa male! Questo è tutto un sistema pneumatico! Sì, sì! E tutto è stato! Cosa ha mangiato oggi? Oggi, dottor, ci ho messo due belli spaghetti alla San Giovanni! Vengenio! Una alla volta lo infilavo così quel bel 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 bel, scendeva e si inoculava! Vengenio! 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 Non con lo stecchino, col filo, con lo stecchino usate! E poi ci sono domande lì, senza nocione! Sì! E per me, la verdura devi mangiare! Vedi come fa? La verdura! E qua il capo di cosa alla volta va a mangiare! Vediamo, vediamo! Vengenio! Vengenio! È tutta, è tutta, è tutta a norma! Me lo fa soffrire però! Per venire la pressione qui! Allora! Dottor, non mi piace! Ma mamma! Che fa? Claretta! Ci avrà un po' di sofagite! Vabbè, lei deve sfogare! Almeno il caffè glielo possiamo dare! Il caffè! Il caffè! A lui piace assai! Il caffè! Il caffè! Vabbè, dai, se giornalmente come le hanno, non voglio capire il caffè! Lo vuoi il caffè? Grazie! Vuoi fare un salutino a suo marito? Amore! Mi stai pensando! E sta qua! Il caffè! Il caffè! Il caffè! Amore! È bollente! È bollente, amore! E io lo prendo senza zucchero! Cos'è questo zucchero? È troppo molto! come il caffè! È Ansario! Nel battola.. Ha! Ha!